Anche il Comune di Macerata ha aderito alla giornata mondiale della lotta contro le droghe. In collaborazione con altri enti del territorio che si occupano della vita sociale dei giovani e giovanissimi, è stata realizzata l'iniziativa La Vita si Suda, lo sport contro le droghe, nata dal tavolo in aria istituito tre anni fa presso la prefettura di Macerata. Lo scenario a cui abbiamo assistito e a cui assistiamo sempre è uno scenario immenso, cioè è come un libro in cui pagine si aprono di volta in volta e che nell'affrontare un problema presenta quotidianamente sfaccettature problematiche ancora sempre più impegnative e più incisive. E quindi sicuramente abbiamo tentato, come si dice in gergo, di mangiare l'elefante a pezzettini e quindi di occuparci di volta in volta di piccoli target che potevano esserci d'aiuto per poter piano piano colpire questo fenomeno nei momenti proprio di maggiore manifestazione. Ma anche nelle sedi dove i giovani più propriamente svolgono la loro attività, quindi abbiamo pensato alla scuola, abbiamo pensato allo sport, abbiamo incontrato i dirigenti sportivi proprio perché passano molto tempo con i ragazzi e quindi possono coglierne le ansie, le aspettative, ma anche i momenti di scoramento, di demoralizzazione, ma anche i cambiamenti di comportamento. E questo è un momento importante. E anche ai genitori dei ragazzi che si rivolge questo progetto? Non siamo riusciti ancora a contattare le famiglie, non riusciamo a capire quale può essere il target giusto per contattare le famiglie, che possa essere quello delle associazioni per esempio religiose o in quale momento storico della vita di un ragazzo la famiglia sia più coinvolta da questo fenomeno. Perché le scuole ci rimandano messaggi di genitori che da un certo punto in poi assolutamente non si occupano più neanche della vita scolastica dei figli. E quindi sappiamo che non è quello il momento giusto. Però siamo fiduciosi, speriamo. Un certo forse la famiglia di fronte a questo problema così grande, immenso, ma sia nell'immediato sia anche proprio come approccio. A volte con i figli è veramente scoraggiata, è veramente inerme, non ha strumenti. Però vogliamo appunto avere questo contatto e arrivare a loro per far capire che ci siamo, che quindi hanno qualcuno a quale appoggiarsi e a cui rivolgersi. Durante la giornata si è parlato della diffusione delle droghe tra i giovani e i giovanissimi e dei motivi che li spingono ad avvicinarsi a questo mondo, tra cui la solitudine e la fragilità nell'affrontare le difficoltà della vita. Inoltre, accanto alle droghe tradizionali, ci sono nuove forme di dipendenza, tra cui internet, che anche gli adulti devono conoscere per poter dialogare meglio con gli alieni della net generation. Questa nuova modalità di connessione, di relazionarsi dei giovani, che non è più la nostra, siamo immigrati digitali. Per cui dobbiamo un po' adattarci a questa situazione nuova, un po' trovare delle modalità comuni con le quali parlare con i giovani. Al fine di prevenire il diffondersi di queste dipendenze, si è cercato di avvicinarsi ai giovani nei luoghi e con i linguaggi che conoscono. La musica è lo sport, momenti in cui genitori e figli sono insieme e a cui si può parlare loro insieme. La droga e il rock, che è il nostro format, descrive la musica rock connessa con l'uso delle droghe, quindi sviluppa la consapevolezza critica, fa ragionare su questa modalità. E la musica è una cosa che mette insieme più generazioni, perché alcune musiche storiche, inossidabili, sono quelle che cantavamo noi e che adesso i ragazzi ascoltano. L'altra cosa è lo sport. La vita si suda, questo luogo che abbiamo scelto è fondamentale. Cioè se si vuole star bene, se si vuole arrivare verso il benessere, bisogna sudare. Noi sappiamo che la lotta alla droga è una lotta impari, perché il mercato dei narcotrafficanti è un mercato molto organizzato ed efficiente. Però pensiamo che una vera cultura alternativa, una cultura che spinga i giovani e tutte le istituzioni a valorizzare una vita impegnata, una vita fatta di sacrificio, anche di disciplina, per ottenere dei risultati, significa educare al bene e al bene comune.